Disparità di trattamento tra i cittadini, da un lato i residenti e da un lato gli esercenti è una segnalazione a due vigili urbani che sarà fatta dal Comitato Cittadini per il Centro Storico alla Procura. Per i primi le norme si applicano, per i secondi no. Sono le parole degli avvocati Fausto Corti e Claudia Aloisio che hanno voluto segnalare un fatto. Un fatto in sé banale ma gravissimo per i risvolti e per i rapporti tra pubblici esercenti e cittadini. L'episodio si è verificato, hanno raccontato venerdì sera ed è stato documentato con foto e video. Un residente in via Garibaldi doveva lasciare la spesa a casa e come il regolamento permette si sarebbe limitato a tenere per qualche minuto la macchina con quattro frecce e sportell'aperto, hanno raccontato i due. Il tempo di scendere e salire e trova la multa. I vigili erano a piazza a Chiarino, così il residente si è spostato per protestare segnalando anche la presenza di altre vetture parcheggiate in modo irregolare. Tra queste la macchina di un esercente, hanno chiarito i due legali. Parcheggiata e in sosta abietata, hanno verificato la proprietà con una visura. I vigili, secondo le immagini e il video e quanto riferito da legali e dal residente, verificano ma alla fine non fanno la multa. Vanno a multare poi coloro che stavano nei posteggi dei residenti senza averne diritto. Un fatto secondario, hanno ribadito i legali, ma ricadito è gravissime. I due hanno parlato di omissione di atti d'ufficio. Non è pensabile, ha tornato l'avvocato Fausto Corti, che due pubblici ufficiali decidano loro a chi fare le multe. Il regolamento comunale, hanno detto poi, da una certa ora non viene applicato. Il terzo problema è legato al fatto che il residente sia stato sanzionato senza aver fatto nulla. Di fatto il pubblico esercente sia stato graziato. Il sindaco deve prendere una posizione, ma la questione non finisce qui, perché ci sarà la segnalazione dei vigili, ma anche alla Corte dei Conti, che riguarderà, a chiarito Corti, i soldi che la comunità ha perso perché non sono state fatte le multe per le centinaia di violazioni del regolamento comunale da parte di esercenti. La questione ovviamente verrà sottoposta anche al sindaco Perluigi Biondi, hanno detto i due. Sicuramente intenderemo fare una segnalazione alla Procura della Repubblica per l'omissione di atti d'ufficio e una segnalazione alla Corte dei Conti, perché riteniamo che queste mancate sanzioni da parte del Comune comportino un danno per le casse pubbliche. L'episodio che abbiamo raccontato oggi e i numerosissimi episodi che si sono susseguiti negli ultimi tempi ne hanno dimostrazione. Ormai è un dato fattuale questo. L'amministrazione non sanziona, non eleva contravvenzioni, non sospende licenze, non revoca licenze. Nonostante palesi violazioni delle norme, norme che lo stesso Comune si è emesso, perché sono regolamenti comunali, quindi è il Comune che si è dato queste regole. Un esecutivo che non fa rispettare le norme dettate dal suo legislativo non svolge un ruolo per cui è istituzionalmente lì.